Manca sempre meno, ci siamo quasi, ancora un giorno e si chiuderà questa 71esima edizione del Locarno Film Festival e proseguo con la ricerca della risposta, la risposta con la R maiuscola, alla domanda, la domanda quella con la D maiuscola, ovvero come e dove sarà il futuro del cinema? E questa volta lo chiedo a un regista svizzero, Eric Bernasconi, ultimamente impegnato con il suo primo documentario. Il futuro del cinema? Io intanto credo che il futuro starà sempre e comunque nei contenuti, penso che è ovvio che oggi come oggi ci sono nuove generazioni che guardano film su telefonino e la cosa a uno della mia generazione non piace, però fruiscono dei contenuti, quindi sui contenuti bisognerà continuare a progredire, tenere conto di come la gente cambia il modo di vedere certe cose, però senz'altro bisogna difendere dal mio punto di vista le dimensioni. C'è questa logline di un film che io non ho nemmeno visto ma che mi è sembrata geniale che era Godzilla e la logline era Size Matters e le dimensioni contano, già dal primo cortometraggio che tu fai e che poi ti trovi per fortuna a vedere proiettato su uno schermo grande, vedi che cambia la narrazione con le dimensioni, quindi io credo che il cinema non morirà. Ecco, questo è solo un piccolo assaggio di quanto mi ha detto Eric. Se volete vedere l'intervista integrale vi basta andare sulla mia pagina pubblica di Facebook. Oltre a ciò, proiezioni in concorso del film Wintermarken, un film potentissimo, assolutamente disturbante, stimolante come non ne vedevo dai tempi di Funny Games nella versione originale austriaca. A me piace prendere i commenti a caldo, come stai? Ma assolutamente piegato, piegato in due però. Grazie al cielo che ci sono film così, grazie al cielo che, escludendo i film di Piazza Grande che sono... Sono quelli più commerciali, no? Sono nazionalpopolari, servono a che... Più pubblico. Sì, certamente. Alla fine devi riempire una piazza con 8.000 spettatori. Non per forza di intenso e potente come quello che abbiamo appena visto, ma comunque di ricercato, di interessante che ci porti ad andare oltre i luoghi comuni, le frasi fatte del cinema a cui siamo troppo spesso abituati. C'è una cultura da festival, è amore autentico per, non solo per il cinema, ma per l'arte in generale, per poter apprezzare queste cose. Sì, non c'è sempre Candy Candy, talvolta c'è anche Godzilla che ammazza Bambi, come nel caso di quest'ultima visione. Un plauso dunque ad attori e regista, molto bello, davvero. E noi ci si ritrova lunedì per scoprire assieme tutti i vincitori di questa 71esima edizione del Locarno Festival. Non è che state pensando che ci sono camicie migliori, vero?